Il principe Carlo è triste e il principe William è arrabbiato e triste durante il ritorno del principe Harry nel Regno Unito per il giubileo di platino della regina, ha affermato un esperto reale, la giornalista Camilla Tomaini ha rilasciato i commenti mentre discuteva di Harry e Meghan Markle che si univano alla famiglia reale per le celebrazioni, che mancano a meno di due settimane. Il ritorno dei Sussex in Gran Bretagna arriva in mezzo a una spaccatura reale ben documentata, con la signora Tomaini che afferma che il principe di Galles era stato lasciato triste e il duca di Cambridge era arrabbiato e triste, parlando in un video per il Telegraph, l'esperto reale ha dichiarato, non so cosa stiano pensando i Cambridge sul fatto che saranno al platinum giubili in questo momento perché sappiamo che le relazioni tra le due coppie rimangono ancora piuttosto distanti. Naturalmente il principe Carlo, che le uniche emozioni che è mai stato usato da lui o dalla sua gente su come ha reagito a cose come l'intervista a Oprah, sono la tristezza piuttosto che la rabbia. Quindi papà è triste, penso che il fratello sia arrabbiato e triste. Ma come è successo con i volti coraggiosi funebri del principe Filippo saranno messi in giudizio. L'aggiunta più interessante al procedimento ovviamente è Meghan perché in precedenza abbiamo visto Ferri da solo nel Regno Unito e ora la duchessa tornerà all'ovilè ovviamente il linguaggio del corpo e la sua lettura sarà piuttosto affascinante. Ferri ha messo a nudo le sue fratture con suo padre e suo fratello nell'intervista televisiva Bomba Sua e di Meghan con Oprah Winfrey nel marzo 2021. Ha anche evitato una domanda sul fatto che gli mancassero Charles e William durante un'intervista agli Invictus Games il mese scorso. I Sussex hanno confermato all'inizio di questo mese che avrebbero partecipato alle celebrazioni del Platinum Jubilee a seguito di intense speculazioni. Stanno portando i loro figli Archie e Lilibet per la prima volta da quando Megxit li ha visti lasciare i doveri reali e trasferirsi in California nel 2020. Stanno portando i loro figli e trasferirsi in California nel 2020. Stanno portando i loro figli e trasferirsi in California nel 2020. Stanno portando i loro figli e trasferirsi in California nel 2020. Stanno portando i loro figli e trasferirsi in California nel 2020. Stanno portando i loro figli e trasferirsi in California nel 2020. Stanno portando i loro figli e trasferirsi in California nel 2020.